7.30 buongiorno ben ritrovati cari telespettatori questa è la rasseglia stampa occhio ai giornali e cominciamo subito con il calendario di oggi con il santo di oggi poi vedremo le previsioni del tempo poi subito i giornali perché ci sono anche oggi tante notizie sui quotidiani il corriere adriatico il resto del carlino i due quotidiani che hanno gli inserti della provincia di piazzorubino dicevo andiamo subito con il santo di oggi la santa di oggi oggi è santa giovanna francesca di chantal una santa che visse nel 1600 il sole è sorto alle 6.09 tramonta alle 20.17 andiamo subito a vedere il tempo per oggi c'è una temperatura abbastanza rigida questa mattina alle 7.30 fresca direi decisamente fresca però ci attende una bella giornata di sole vedete tutta la costa sarà senza nuvole mentre continua ad esserci qualche qualche nuvola a ridosso dei rilievi durante le ore più calde della giornata temperature in lieve aumento per la giornata di domani sabato 13 avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti nelle zone interne anche se vedete ancora di più rispetto ad oggi ci sarà bel tempo su tutta la regione Marche domenica cielo sereno poco nuvoloso con temperature ancora in aumento avremo tempo stabile anche lunedì martedì e mercoledì della prossima settimana 12 persone indagate per la morte di Carmen Zazzaro la 24enne che è deceduta all'ospedale di Fano in sala parto mentre i medici appunto stavano tentando di far nascere il bimbo che era già morto purtroppo nel grembo da due giorni andiamo a vedere il Corriere Adriatico la pagina principale l'edizione di Pesaro eccola qua il titolo morta di parto 12 indagati il ministro Lorenzini invia gli ispettori oggi l'autopsia su Carmen e il bimbo 12 indagati dicevamo 3 ginecologi 4 anestesisti e 5 ostetriche per la fine di Carmen Zazzaro la giovane mamma di 24 anni morta di parto la procura della repubblica di Pesaro ha aperto una indagine per omicidio colposo mentre il ministro Beatrice Lorenzina ha disposto l'invio al Santa Croce di una task force di ispettori poi a centro pagina invece io sindaco del paese che non fa pagare le tasse gagliole con riccioni i servizi a costo zero poi sotto la picca a Pesaro via ai licenziamenti non ci sono buone notizie per i lavoratori poi si parte con la new co posti in mobilità da lunedì 85 dipendenti la nuova società verrà costituita a settembre le notizie in breve sotto la testata fuochi d'artificio e comparte e feste nel lungo weekend che ci attende quello che poi ci porterà al ferragosto c'è l'elenco c'è ci sono tutta una serie di articoli in giro per le marche il Fano invece debutterà in casa del Sud Tirol in Lega Pro preso Andreacci andiamo adesso nelle pagine interne l'amaro ferragosto della pica parliamo di lavoro licenziamenti poi la nuova società da lunedì 15 si aprono le procedure di mobilità per 85 dipendenti la new co invece a settembre agricoltura e commercio affano il trend è negativo scarsi i segnali di ripresa imprese femminili sono quelle penalizzate penalizzate tra aziende che nascono e chiudono il saldo è comunque con il segno meno ancora la matematica diventa un'opinione la CGL contesta l'app di Ceriscioli per l'ospedale unico un epitaffio sulla tomba della politica Simona Ricci della CGL incredula delle simulazioni segretate l'elenco dei problemi con risposte inadeguate parliamo del nuovo ospedale unico Pesaro Fano 12 indagati per la morte di Carmen e il ministro invia gli ispettori nell'inchiesta ci sono finiti medici e ostetriche del Santa Croce di Fano oggi l'autopsia come dicevamo su mamma e bimbo l'ospedale ha svolto un'indagine anche interna per verificare l'applicazione di tutti i protocolli mentre i familiari sono disperati non doveva finire così il marito e il padre della ragazza deceduta sono stati riascoltati dai carabinieri e ancora ossessionati dalle zanzare dalle zanzare e dal caldo sette marchigiani su dieci soffrono fortemente la calura estiva l'aria condizionata è solo in auto boom di punture e reazioni allergiche per il 78% degli intervistati che non attua però alcuna prevenzione questo è l'altro articolo che troverete sulla pagina del Corriere Adriatico di oggi in primo piano anche l'esempio di Gagliole servizi gratis e niente tasse il sindaco Riccioni taglia le indennità per garantire assistenza a costo zero il sindaco Mauro Riccioni con Angelo Licchieri sindaco eccolo qua c'è un sindaco nelle Marche che è diventato la pietra dello scandalo della politica italiana in tre anni è riuscito a smontare tassello dopo tassello teoreme e formule degli amministratori di prima e seconda repubblica tirandosi dietro gli applausi dei suoi concittadini ma altrettanto scetticismo di chi occupa poltrone e scranni in giro per il paese e stiamo parlando di questo sindaco il sindaco di un municipio Gagliole una cittadina di 650 anime in provincia di Macerata potete leggere l'articolo a pagina 11 del Corriere Adriatico di oggi interessante vedete allora vento e mare le due incognite per la notte delle candele si studiano modifica il programma c'è attesa per il bollettino meteo delle ore 13 ma insomma abbiamo già visto non dovrebbero esserci sorprese l'importante insomma che non faccia fresco come ieri sera o insomma che non ci sia il vento per quanto riguarda appunto le candele e sempre a Pesaro c'è il ROF lo Rossini Opera Festival il bello dello streaming per un festival Urbi e Torbi alle 11 in diretta dal Teatro Rossini il viaggio a Reims dell'Accademia da tutto il mondo ci si potrà connettere e pensare a quali saranno le star di domani ancora dal Corriere la VL la pagina di Pesaro Sport VL la cantera non delude Serpilli sarà il prossimo crack a volte per chi non è addentro certi titoli si fa fatica pure a comprendere tenta il suicidio sull'ardizio fanese salvata dai carabinieri priva di sensi in mano aveva dei barbiturici e dei tranquillanti la svolta nelle ricerche con l'ultima telefonata alla famiglia nella quale aveva annunciato che si sarebbe buttata dall'alto allarme che è scattato nel pomeriggio ricerche persino in spiaggia adesso è ricoverata al San Salvatore di Fano si tratta di una trentottenne che era uscita sin dal primo mattino scossa e un po' stato confusionale risorse europee per il Foglia, il fiume Foglia di Pesaro nuova vita per l'intero bacino sottoscritte le linee di indirizzo il progetto da 25 milioni riguarderà solo due fiumi apriamo la pagina di Fano adesso dove una operatrice di salvataggio ha portato soccorso e ha aiutato ad evitare il peggio ad un ragazzo che tra l'altro era stato anche avvisato di non entrare in acqua ieri purtroppo non sono servite a nulla le bandiere rosse lungo tutto il litorale tanti ragazzini che senza usare il briciolo di cervello si sono comunque buttati in acqua e in due hanno rischiato di morire la ragazza che ha salvato questo giovane eccola qui nella fotografia si chiama Martina Savelli bagnina di salvamento il suo intervento tempestivo di recupero avvenuto con l'ausilio del Baywatch ha evitato che si complicasse la faccenda un 17enne è stato portato a Riva Nuoto e rianimato il 118 poi lo ha trasportato al Santa Croce questa è la pagina di Fano del Corriere Adriatico andiamo avanti le altre pagine Borgo Cavour la festa è un elogio alla storia non solo piatti tradizionali e musica ma anche la riscoperta di un quartiere la festa di Borgo Cavour che si svolgerà domani e domenica quest'anno non si limita a proporre soltanto i piatti più genuini quelli della tradizione ma ci sarà anche la storia si riscopriranno le storie, le atmosfere, i personaggi le emergenze monumentali di un intero quartiere i desideri del sogno in cielo questa sera dalla spiaggia di Torrette di Fano si leveranno migliaia di lanterne un momento magico che verrà ripetuto su tutto il litorale marchigiano il Presidente della Proloco parla di un colpo d'occhio che sarà eccezionale dalla pagina della Valle del Cesano Meloni e Baldelli Pugno Duro la labirinto rispetti la legge per quanto riguarda l'edificio dichiarato non agibile dal Comune sul quale all'interno stavano effettuando dei lavori la cooperativa per ospitare gli immigrati dopo la sospensione dei lavori al Motel Maggi riscoppia la polemica sui profughi IAT che è il punto di ascolto o meglio il punto di promozione turistica IAT punti di svolta per i turisti le montagne entrano in ufficio Frontone, Serra, Sant'Ambondio si uniscono le forze e sfruttano due nuove vetrine quella appunto degli IAT sviluppato il progetto integrato di accoglienza per il Catre e per Fonte Avellana la pagina in Senigallia del Corriere Adriatico sosta, scatta la rivoluzione ma è subito caos in centro stop e parcheggia lo stadio vigili costretti a chiudere al traffico i portici ercolani e adesso le pagine del resto del Carlino quella di Fano esci, c'è corrente ma lui va lo stesso salvato mentre stava annegando bagnina di vent'anni recupera un sedicenne nelle acque davanti allo chalet del mare e poi 12 indagati per omicidio colposo il ministro manda gli ispettori triplice in carico per l'autopsia che si farà oggi pomeriggio poi sotto non è possibile morire in questa maniera chi ha sbagliato deve assolutamente pagare la rabbia del padre Ciro Zazzaro è tornato, che è tornato dai carabinieri e accusa, eccolo qua il padre di Carmen e il nonno del piccolo Mattia che doveva nascere invece è morto nel grembo della mamma fare il cesareo sarebbe stato ancora più rischioso dicono adesso i medici del Santa Croce che non cambiano idea il primario Cicoli, Claudio Cicoli dice applicate tutte le linee guida internazionali per questi casi è stata solo una fatalità dice la caposala con il marito di Carmen ci siamo anche abbracciati e questa è la fotografia di Carmen e il marito un momento felice mentre mostra si mette in posa con il pancione tutti e due con le mani sulla pancia come a proteggere il bimbo la pagina invece di Urbino e provincia ponte dei conciatori via ai lavori finalmente possiamo dire a Urbania questo ponte che non reggeva più è stato chiuso è rimasto chiuso come succede in Italia per tanto tempo e poi adesso insomma si ripristina e si dovrebbe riaprire all'incirca nel giro di tre mesi partiranno il 22 di agosto il ponte come dicevo è chiuso ormai da circa un anno l'ultima pagina del resto del calino per questa notizia da Marotta Sauro Bianchetti torna di moda l'ex patron della linea Siviglia ora punta ad un target molto più alto l'estero dice ci dà soddisfazioni ha avviato Bianchetti una nuova linea di abbigliamento e adesso presenterà le prime collezioni i modelli sono stati creati da due figli e le lavorazioni vengono fatte nei laboratori locali è tutto grazie per aver seguito Occhi e Giornali torneremo come sempre stasera in diretta alle 20.30 con il telegiornale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti